Grazie Presidente, il tema che ha illustrato il Consigliere Zannola è sicuramente importante per quel territorio, non solo perché poi mi piace pensare alla pianificazione del trasporto pubblico sempre in un'ottica di città, chiaramente senza fossilizzarci troppo sui singoli territori, scusate, non piccoli. Il tema però è sicuramente importante e merita tutti i necessari approfondimenti che io personalmente già sto svolgendo da qualche giorno, sia con i nostri rappresentanti del municipio che con i nostri tecnici di Roma Servizi per la Mobilità e ATAC, che anzi ho il piacere di ringraziare in ogni occasione per la professionalità che mettono nel loro lavoro e nel loro impegno. Detto questo il voto del nostro gruppo sarà di astensione e come si suol dire un'astensione costruttiva perché mi prendo l'impegno fin da subito di trattare il prima possibile questo argomento in commissione così da metterci tutti davanti a un tavolo, rappresentanti locali, tecnici, nostri uffici anche del Dipartimento, consiglieri di maggioranza e di opposizione per trovare una soluzione che sia ottimale per tutti perché sono convinto che ci sia e chiaramente non possiamo relegare un tema così importante unicamente al voto di aula. Ben vengano le emozioni, ben venga la proposta che ci è stata fatta, ripeto, ci asteniamo con l'impegno di lavorarci il prima possibile in commissione, tutti i colleghi sanno sia di maggioranza che di opposizione e che la commissione è sempre stato un luogo aperto di approfondimento e di lavoro per chiunque abbia voglia di farlo. Grazie.